buon pomeriggio visto quasi l'ora di pranzo di oggi martedì 26 maggio dalla linea subito al mio contributo che ho registrato ieri vocale il focus sulla partita di quest'oggi della bundesliga maschile tra borussia dortmund e bayern monaco buon ascolto a tutti grazie Grazie. 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 Bene, cari amici, spero questo mio Focus vi sia piaciuto. Quindi, godiamoci la gara, anche perché io lo vedrò tutta dall'inizio alla fine. e spero di divertirmi tanto buon pranzo vista l'ora buon proseguimento di giornata a tutti alla prossima ci becchiamo quando prima sui miei vari canali youtube, facebook, twitter e instagram ciao a tutti alla prossima ciao